Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino a sabato 12 gennaio è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Eboli e Battipaglia in direzione Fisciano. Sulla raccordo di Benevento fino alle ore 20 di sabato 29 dicembre, per lavori di manutenzione straordinaria il cavalcavia che sovrasta la 16 Napolicanosa nei pressi di Venticano, è attivo lo scambio di carreggiata nel tratto compreso tra il casello di Benevento della 16 Napolicanosa e lo svincolo Castello del Lago in direzione Benevento. Sulla strada statale 372 Telesina fino alle ore 17 del 30 dicembre, per lavori sono attivi sensi unici alternati tra le uscite al Vignano e Gioia Sannitica in provincia di Caserta. Ma per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità ed il trasporto pubblico locale. Infine potete iscrivervi alla nostra newsletter che è a cadenza quindicinale. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.